ciao a tutti bentornati sul canale youtube di easy arp io sono paolo dei monti su un armonicista nonché l'autore di easy arp la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyarp.it questo canale youtube di easy arp se non sei già iscritto ti invito a farlo oggi torno a parlare di un argomento che non passerà mai di moda per chi si appassiona di armonica diatonica e di blues ovvero il bending in particolare oggi cerco di dare alcuni suggerimenti a chi ancora difficoltà ad applicare correttamente questa tecnica come avete capito insomma se vi piace l'armonica diatonica e blues non potete fare a meno di questa tecnica questa tecnica il bending che ci permette di alterare l'intonazione di alcune note è fondamentale per ottenere quelle sonorità tipiche del blues suonato attraverso l'armonica diatonica allora vi ho già parlato di come si fa il bending e insomma tutti gli elementi che sono coinvolti insomma trovate qui sopra una playlist di alcuni video che se non avete visto andate sicuramente a vedere perché troverete delle indicazioni fondamentali ma se ci stai già provando un po di tempo che ci stai provando e qualche risultato insomma l'hai ottenuto però non sei soddisfatto di come questa tecnica poi va a suonare insomma non ti viene bene il bending o addirittura viene fuori una volta ogni tanto chissà perché è chissà come allora è fondamentale innanzitutto avere pazienza ci vuole pazienza perché questa tecnica il bending non è nata proprio assieme allo strumento nel senso quando è stato progettato questo strumento indicativamente metà 1800 prima il blues non era ancora stato suonato quindi queste note alterate non erano così indispensabili insomma per la musica che si suonava allora infatti l'armonica non nasceva per essere suonata attraverso la tecnica del bending quindi stiamo andando contro la natura dello strumento che per il suo suona nel momento in cui noi ci respiriamo attraverso in ogni foro possiamo ottenere due note una quando soffiamo e una quando aspiriamo allora se io voglio imparare ad addomesticare prima di tutto scoprire poi addomesticare questa tecnica è assolutamente fondamentale dal mio punto di vista che tu ti concentri sulle condizioni di base c'è una corretta impostazione sullo strumento il primo atto è proprio la respirazione quindi bisogna imparare a respirare correttamente attraverso lo strumento quindi ancora prima di preoccuparti del bending devi riuscire a ottenere delle note singole pulite chiare ben definite ma soprattutto con un bel suono quindi non non va bene se tu parti con un suono così flebile senza senza corpo ma devi riuscire a far suonare tutte le note con un bel suono un bel corpo questo significa che stai coinvolgendo correttamente la tua respirazione insomma tutta la tua cavità orale la tua risonanza interna la cassa armonica dello strumento sei tu suonare l'armonica fondamentalmente significa respirarci attraverso quindi questo il primo gesto il più naturale che ci appartiene dalla nascita e che dobbiamo soltanto imparare a gestire a controllare nel momento in cui stiamo utilizzando il nostro strumento quindi questo è il nostro violino l'archetto è il sistema di respirazione in più all'interno della nostra cavità orale abbiamo un sistema di controllo dell'intonazione del timbro insomma il modo in cui noi ci poniamo all'interno della bocca può sicuramente influenzare parecchio il suono vedi per esempio il problema sul secondo foro aspirato volutamente non sto ancora parlando di bending perché se tu hai problema col bending probabilmente ci sono dei problemi di fondo che devi risolvere il secondo foro aspirato ve l'ho parlato in un altro video da dei problemi all'inizio e può suonare malissimo così no ma in realtà deve suonare benissimo così allora cosa devo fare devo adattare la mia cavità orale al suono che sto ottenendo attraverso il mio strumento questo concetto in realtà vale più o meno sempre è chiaro che ci sono delle note più facili da suonare e delle note magari un po più ostiche questo dipende da tutta una serie di fattori diciamo che se io sto utilizzando un'armonica in do dal quarto foro al settimo foro bene o male riesco a farle suonare tutte magari ho qualche problema sul secondo foro aspirato sulle note acute beh questo dipende insomma dal fatto che noi dobbiamo cominciare ad adattarci all'interno della bocca alle frequenze delle note che vogliamo suonare quindi la risonanza interna della nostra bocca è fondamentale per ottenere un buon suono in collaborazione con il sistema di respirazione che aspira oppure soffia partendo dal basso una sorta di mantice che muove l'aria a nostro comando e nella bocca invece abbiamo un sistema di risonanza e che si deve adattare al suono della nota quindi per far suonare bene una nota pulita senza bending io non devo fare un enorme sforzo ma devo semplicemente imparare a gestire tutto questo in modo corretto per imparare a farlo all'inizio avevo già parlato dimenticatevi di far passare l'aria dal naso utilizzate soltanto la bocca quindi l'aria deve passare soltanto attraverso la bocca imparato questo ho imparato a gestirlo poi capirete anche come utilizzare il naso come eventuale valvola di sfogo in alcuni momenti ma per avere un bel suono nelle fasi iniziali dovete imparare a discutere la respirazione nasale questo vi permetterà di avere un efficace controllo sulla vostra respirazione e sul suono che otterrete respirando attraverso l'armonica a questo punto interviene la cosiddetta posizione k che vi permetterà mentre voi continuate a respirare correttamente attraverso il vostro strumento di modificare l'intonazione di alcune note in particolare se parliamo di bending aspirati stiamo parlando dei primi sei fori dell'armonica ok dove appunto le note aspirate si possono abbassare di intonazione diciamo dal primo sesto foro escludiamo il quinto foro che si abbassa ma si abbassa di poco ma tutte le altre si abbassano parti dal quarto foro aspirato poi prova a scendere fino al primo foro aspirato eventualmente salire fino al sesto foro aspirato ogni nota però alla sua frequenza quindi se io parto dal quarto foro aspirato che di suo suona così bene prima cosa se hai capito quello il discorso che ho fatto finora devi imparare a suonare un bel quarto foro aspirato pulito netto nitido con un bel suono prima ancora di provare a fare il bending dopodiché questo gesto di respirazione non cambia ma devi aggiungere un elemento all'interno della tua cavità orale che ti permette di modificare l'intonazione di questa bella nota come si fa si fa utilizzando la posizione della lingua ovvero andando in posizione k il che ti permette di modificare la direzione del flusso dell'aria di modificare la pressione del flusso dell'aria andando a stringere il flusso nella parte alta stringendo il flusso aumenta la pressione e la posizione più o meno avanzato più o meno arretrata della tua lingua in k andrà a determinare l'intonazione interna della tua bocca quindi se io parto da questa nota sentite io sto aspirando con la lingua in posizione k ma è una posizione k più prossima possibile all'intonazione di questa nota sto aspirando e mi risuona in bocca questa nota ci arrivo per istinto per intuito per imitazione insomma basta seguire il proprio istinto come quando si fischietta qualcosa ok per avere questa sentire io devo aspirare continuare ad aspirare è la lingua in quella posizione lì se io stacco direttamente la lingua sentite che l'aria passa tutto insieme quindi devo controllare il flusso dell'aria la posizione k la risonanza quindi l'intonazione interna della mia bocca ma soprattutto non devo smettere di aspirare ok quindi quando io sono già in quella posizione continuando ad aspirare a un certo punto sentirò che l'intonazione sia bassa ma se io non continuo ad aspirare quindi non ho un'impostazione corretta della mia respirazione il bending non verrà fuori o verrà fuori male non cercare il bending nelle labbra nell'imboccatura non cercarlo all'esterno cercalo all'interno tutto succede dalla cavità orale in giù quindi aspira in modo corretto in modo continuo non utilizzare il naso utilizza solo la bocca e controlla la pressione l'intonazione interna della bocca attraverso la posizione k della lingua questo non è facile da imparare lo capisco benissimo perché è tutto nuovo ma vi posso assicurare che lo si scopre come facendo non ci sono altri sistemi quindi vi dovete concentrare, provare, provare, rilassate il più possibile le vostre spalle concentratevi sulla respirazione, sulla pulizia delle note, sul bel suono iniziale della nota che volete alterare e provate pian piano a utilizzare posizioni diverse della lingua che vedrete andranno a influenzare in qualche modo questa intonazione appena sentite un accenno di bending beh dovete cercare di memorizzare quella posizione che vi ha portato a modificare l'intonazione della nota di partenza quindi più tempo rimanete in quella posizione più riuscirete a memorizzarla evitate assolutamente dei tricks di inclinazione dell'armonica, di modifica dell'imboccatura questo vi porterà assolutamente fuori strada il controllo lo avrete all'interno della vostra bocca se vedete io non sto muovendo niente all'esterno il segreto del bending è quindi controllare contemporaneamente la vostra respirazione il più profonda possibile, il più controllata possibile e l'intonazione interna della vostra bocca quindi se non riesci ancora a fare il bending o non riesci a farlo bene vai a scoprire quali sono i limiti prima ancora del bending concentrati sulla respirazione, sul controllo della respirazione l'emissione del flusso dell'aria, sia in entrata che in uscita la pulizia delle note, il timbro delle note parti da delle note belle pulite con un bel suono questo vuol dire che tu stai controllando correttamente la tua respirazione dopodiché senza modificare niente di questa buona impostazione concentrati su c'è sempre tanto da dire riguardo di questa tecnica all'inizio un po' mistica insomma il bending attraverso l'armonica diatonica però spero che in questo video tu abbia trovato alcuni stimoli alcuni spunti per magari indirizzare meglio i tuoi sforzi considererlo comunque un complemento agli altri video che trovi proprio nella playlist dedicata al bending bene questo era il video di oggi spero che ti sia utile, che ti sia piaciuto se è così stato magari lascia il tuo like se non sei già iscritto al canale youtube di Easyarp te lo invito a farlo iscriviti ora, clicca anche sulla campanellina per ricevere aggiornamenti quando pubblicherò un nuovo video puoi seguire Easyarp anche su facebook, instagram e il canale telegramma di Easyarp e soprattutto se non l'hai già fatto ti invito a visitare Easyarp 2.0 la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyarp.it dove trovi una vera e propria scuola di armonica blues online la prima in Italia realizzata da sottoscritto con tanti corsi divisi a livelli da livello base a livelli avanzati possibilità di sostenere gli esami per certificare il superamento del proprio livello community di studenti armonica blues standards da studiare insomma tutto quello che ti può tornare utile per seguire un percorso didattico completo e guidato all'apprendimento dell'armonica blues e ricordate che imparare suonare l'armonica è facile con Easyarp take it easy, take it easyarp ciao, saluto a tutti 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 ciao, saluto a tutti